ciao a tutti sono giulia mashboom24 e siamo tornati con un nuovo video qui sul mio canale allora prima di iniziare il video vi ringrazio perché abbiamo raggiunto i 90 iscritti e sono molto contenta e adesso puntiamo i 100 ok e grazie ancora e vi dico intanto vi lascio il link in descrizione del mio canale scusate del mio profilo instagram e anche del canale telegram che ho aperto perché so che quasi nessuno in realtà di voi che mi seguite a telegram ma comunque per chi ce l'avesse se vuole puoi iscriversi il canale si chiama comunque giulia mashboom24 ma vi lascio il link in descrizione ok oggi andiamo avanti sempre con matt perché è martedì non ricordo la perfezione cosa era successo nell'ultimo video ma comunque mi ricordo che colin ci aveva parlato perché gli avevamo chiesto se sapeva qualcosa di più su matt ma non sapeva molto quindi niente adesso lei è in pausa pranzo per pranzo ho preso giusto uno snack ero troppo preoccupata dall'assenza di matt non ancora risposte mi sms e nessuna novità mi rimetto al lavoro ma mi è impossibile concentrarmi sono già le tre del pomeriggio e anche un segno di matt ma credo che ormai non venga più all'improvviso sento dei passi sembrano quelli della persona che aspetta da tutto il giorno matt ah invece ah ho sbagliato proprio vabbè meglio così ehi angelo ciao matt dov'eri come stai come stai stai bene metto sospira mentre poggio la sua roba sulla scrivania sembra esausto ho riportato daryl a casa sua in ospedale facevano problemi a farlo uscire e lascia questi sistemi e cosa lascia questi sistemi decido di fargli riprendere fiato e rimettersi in sesto e ho avuto una discussione con lui un'altra ti pareva non sollevare la questione chiedegli perché chiedegli perché dai su cosa per via delle cose leghe delle corse illegali no beh non è nulla parliamo di qualcos'altro ok boh vabbè ancora una volta mi sento messa da parte matt ha messo un altro muro tra me e la sua vita vabbè però se è un fatto personale alla fine non è che ci deve dire tutto non avevi il telefono no ero un po fuori questa mattina l'ho dimenticato nella mia stanza perché hai provato a chiamarmi beh sì mi sono preoccupata abbastanza metto mi guarda con tenerezza è già stupidone nel caso tu non l'abbia notato ci tengo a te sei troppo dolce mio piccolo angelo si avvicina a me e mi deposita un bacio sulla fronte il mio intero corpo è elettrificato comunque se si trattano così secondo mi sembrano più come amici non so infatti credo che alla fine si metteranno insieme io vabbè il suo gesto è totalmente scombussolata e non voglio che se ne accorgia cerco di sviare la sua attenzione gabriel ti ha cercato dovresti avvisare colin gabriel ti ha cercato anche se non mi ricordo nemmeno ma ok comunque stamattina ah sì adesso mi ricordo gabriel gabriel ti cercava ah sto cartello fa sempre in mezzo sarà meglio che vada subito da lui non posso abbandonarlo col mio fascino come faccio con chessi di che io sappia no ma per sicurezza stringi metto finge di rimanere sconvolto dalla mia ultima affermazione poi scoppia in una fragorosa risata mi sento immediatamente avvalgere di dolce di dolcezza adoro sentirlo ridere io sono rimasta un po sconvolta vabbè non era niente di male lo guardo andar via camminando innocentemente verso l'ufficio del nostro manager sono andata a letto presto ho dormito fino al suono della sveglia non abbiamo parlato di dary oggi comunque sia mi sento in gran forma e pronta a dar calci nel culo sul ring oddio ma questo episodio proprio quanto è lungo il video vabbè dai io direi di chiuderlo perché non ho molto memoria sul telefono e niente tutte le volte diventa comunque un video un po non è che si capisce molto andando avanti veramente a tratti però speriamo di riuscire a capire altro e niente vi chiedo di iscrivervi a questo canale al canale telegram al mio instagram e nulla io spero che questo video vi sia piaciuto se si vi chiedo di lasciare un like un commento e di iscrivervi al mio canale per non perdervi nessuno dei miei prossimi video attivate la campanellina delle notifiche e detto questo noi ci rivediamo con un prossimo video ciao a tutti quanto sono stata veloce